I risultati della campagna di indagini di fatto certificano un buon livello di conservazione della struttura del ponte che ha permesso di poter approfondire anche delle indagini sulla struttura e la resistenza strutturale del ponte. Dalle verifiche preliminari che sono ancora in corso di esecuzione emerge che non ci sono problemi di sicurezza legati alla transabilità del ponte per carichi ordinari, quindi le macchine e gli autobus che lo attraversano tutti i giorni, mentre attualmente sono ancora in corso di esecuzione le verifiche per verificare la transabilità per i trasporti eccezionali di peso superiore alle 25 tonnellate che comunque già ad oggi per le condizioni della viabilità di accesso di questo ponte transitano per la totalità dal ponte Pertini. Il ponte Pazzi ad Alessandria di San Giovanni Valdarno è in buone condizioni di salute. A dirlo sono i risultati della campagna di indagini condotta nel luglio scorso su incarico dell'amministrazione comunale da una ditta specializzata. Un risultato voluto fortemente da questa amministrazione che ha investito 80.000 euro di risorse proprie per approfondire il livello di conoscenza di questa che è oltre a essere uno dei luoghi identitari della nostra città un'infrastruttura fondamentale per il collegamento delle due sponde dell'Arno. Il ponte edificato a fine 800 distrutto durante la seconda guerra mondiale è stato ricostruito dopo il conflitto. Lo studio adesso ha permesso di reperire informazioni sui materiali e dettagli costruttivi dell'opera. Inoltre è stato eseguito un rilievo integrato laser scanner e fotogrammetria da drone per ricostruirne sia la geometria che lo stato di conservazione che è buono. Questo rappresenta sicuramente un risultato importante sia per la sicurezza dei cittadini che tutti i giorni attraversano questo ponte sia perché è una base conoscitiva fondamentale per poter portare avanti i futuri step per la progettazione di un'altra infrastruttura molto importante che è la ciclopista che attraverserà l'Arno realizzata con i fondi della convenzione di autostrade che collegherà il traffico cillo pedonale di pedoni e biciclette delle due sponde dell'Arno e che alla luce dei risultati di questa campagna di indagini potrà essere inserito tra i possibili scenari anche la possibilità di realizzare la passerella in affiancamento alla struttura esistente del ponte.